Buongiorno da Edo e buon inizio di settimana, una settimana che personalmente mi porta verso un evento a cui parteciperò come speaker e anche come moderatore della traccia coding, sto parlando del Web Marketing Festival Now We Make Future, ma comunque sempre WMF, 2023 a Rimini, alla Fiera di Rimini, quindi se siete nei paraggi o se siete già tra i partecipanti a quell'evento sappiate che nella sala coding vi ritroverete questo faccione e comunque vi potete trovare in giro per l'evento già da venerdì, quindi sarò lì venerdì e sabato poi sabato ci sarà il mio talkettino, un talk rapido da 20 minuti in cui probabilmente chiacchiereremo per tutto il tempo e poi sarò in quella sala per tutto il giorno, una sala dedicata al coding, a fare da presentatore, moderatore chiamatelo come vi pare, di tutta la giornata, quindi poi sarò comunque in giro a fare casino bene, ma torniamo alle cose frizzanti e croccanti perché dobbiamo parlare di un paio di news oggi la prima sarà molto veloce in realtà perché voglio fare un update, un piccolo terzo episodio della trilogia, del dramma di Reddit perché ne parliamo oggi? Perché facciamo questo terzo episodio? perché venerdì sera, come anticipavo poi nella puntata di venerdì, ci sarebbe stato, c'è stato questo AMA questo Ask Me Anything, del CEO di Reddit appunto su Reddit stesso e come è andata? secondo voi come ha risposto il CEO di Reddit alle nuove rimostranze dei creatori di app di terze parti e di subreddit? ha risposto più o meno così dillo alla mamma dillo all'avvocato e queste sono praticamente le testuali parole del CEO ma andiamo con ordine questa è la news confezionata da The Verge sulla vicenda faccio un po' un rapido recap quindi Apollo for Reddit ma anche Reef Isfan for Reddit e Red Planet e Sync sono tutte app di terze parti che a causa delle nuove richieste economiche i costi delle API, delle chiamate API su Reddit andranno offline, chiuderanno definitivamente il 30 giugno e da oggi, tra l'altro oggi è 12 quindi da oggi e oggi è domani molti subreddit sono privati, sono chiusi per esempio questo Programmery Humor Programmery Humor aderisce a questo shopper quindi oggi è una private community è chiuso in protesta con questi cambiamenti appunto e quindi cosa succede? succede che appunto il CEO fa questo AMA il CEO che è Steve Huffman e lo username su Reddit è Spez ha fatto questo AMA che è stato acceso, controverso con molti utenti che hanno espresso frustrazione di senso verso questa condotta però Huffman ha difeso le sue scelte ha sostenuto che le nuove API sono necessarie per garantire sostenibilità e sicurezza in Reddit e che gli sviluppatori di terza parte devono pagare per il valore che ricevono dai dati di Reddit quindi Huffman poi ha attaccato anche il creatore di Apollo for Reddit Christian Selig accusandolo di essere disonesto di essere disonesto e avido poi naturalmente molti utenti hanno reagito negativamente alle risposte di Huffman accusandolo di essere arrogante ipocrita e fuori contatto con la comunità di Reddit poi naturalmente si è manifestato la volontà di boicottare o abbandonare Reddit in segno di protesta sostegno a Selig agli altri sviluppatori di terze parti e appunto come dicevamo oggi e domani non si sa anche se sarà una cosa a livello se sarà una cosa indefinita o se domani sarà la chiusura ma appunto queste molte comunità, molti subreddit sono privati non sono più disponibili possiamo anche avere qualche esempio questa è una posta di TechCrunch con qualche esempio che mi sono segnato di domande e di risposte del CEO una domanda è proprio sullo sviluppatore di Apollo che su Reddit è Iam.is e appunto una domanda era su perché avesse screditato appunto il creatore di Apollo su minacce su possibili minacce su ricatti ricevuti la risposta è stata il suo scherzo è il minimo dei nostri problemi il suo comportamento le sue comunicazioni con noi sono stati incoerenti dicendo una cosa a noi e una cosa completamente diversa esternamente registrando e trapelando una telefonata privata che infatti la telefonata tra lui e i moderatori di Reddit è stata poi registrata che è una cosa che si può fare in Canada è legale perché lo sviluppatore è canadese e quindi lui dice appunto non so come potremmo fare a fare con lui poi gli hanno chiesto come pensi che le nuove API influenzeranno la diversità e la qualità delle app per Reddit la risposta pensiamo che le nuove API porteranno un ecosistema più sano e sostenibile intorno ai dati su Reddit le app che offrono un valore aggiunto agli utenti che usano le API in modo efficiente o responsabile potranno continuare a esistere e prosperare invece le app che abusano delle API che non offrono nullo diverso dall'app ufficiale dovranno adeguarsi e chiudere e questo è un po' il riassunto del suo pensiero perché sul fatto che le app di terze parti usino in modo inefficiente abusino delle API di Reddit si è costruita un po' questa narrativa per smontare la quale Christian Selig lo sviluppatore di Apollo sempre dico ha pubblicato su GitHub il codice sorgente del back end dell'app di Apollo e quindi per dimostrare che non ci sono abusi che non c'è malignità e che neanche non c'è codice scritto male perché naturalmente ha messo sotto i riflettori tutto il codice che lui ha scritto per il back end dell'app quindi tutte le chiamate alle API per dimostrare appunto che la cosa è fatta correttamente comunque dietro tutto questo molti continuano a sostenere che in realtà ci siano ragioni finanziarie economiche cioè l'entrata in borsa di Reddit che dovrebbe avvenire più tardi quest'anno quindi una certa pressione da parte dei finanziatori anche perché il valore di Reddit è diminuito in questi ultimi in questi ultimi mesi quindi c'è un po' di tensione un po' di pressione da parte dei finanziatori da parte degli investitori e poi anche la questione relativa alle intelligenze artificiali perché sapete che oggi c'è il tema dello scraping della raccolta dei dati per i modelli e quindi Reddit cerca di monetizzare su questo perché più chiamate all'API per leggere i modelli quindi non fatte attraverso lo scraping delle pagine web ma proprio attraverso le API e più naturalmente queste arrivano hanno soldi nelle casse di Reddit quindi aumentando il costo delle chiamate i modelli di intelligenza artificiale dovranno pagare molto di più quindi se si mettono insieme questi due scenari probabilmente si capisce bene come mai Reddit stia andando in questa direzione e vabbè quindi staremo a vedere come proseguirà poi se ci saranno aggiornamenti nel futuro su questo dramma lo seguiremo anzi lo seguirò perché mi interessa particolarmente spero che interessi anche a voi altrimenti pazienza ma in realtà non volevo dedicare tutta la puntata a Reddit se finisce sempre così volevo avere un po' di minuti per parlare anche di un'altra cosa lo faccio lo stesso verrà più lunga di quello che avevo previsto ma fa lo stesso perché volevo parlare in realtà di un framework JavaScript anzi di un avanzamento nei framework JavaScript perché ne avrete forse sentito parlare in questi giorni ha preso parecchio popolarità su Twitter e su Hacker News anche su Reddit naturalmente finché era possibile questo nuovo questo nuovo approccio ai framework JavaScript che è Million Million JS che è un un avanzamento nelle prestazioni le performance del rendering di React tant'è che sul sito di Million eccolo qua c'è appunto questo claim che Million è in grado di rendere React il 70% più veloce e come fa? ovviamente queste cose qua sono state anche spinte da questo video sul su Twitter pubblicato dal creatore di Million JS che è Idenby che è praticamente un ragazzino maledetto che appunto ha pubblicato questo video il 9 giugno quindi tre giorni fa e ha appunto messo a comparazione le prestazioni di React le prestazioni di Million facendo appunto vedere che con i benchmark è in grado di spodestare è in grado di dimostrare che Million è molto più veloce nel rendering della pagina come fa? beh è interessante leggere questo blog post sul blog di Million dove spiega appunto la tecnica che c'è dietro Million che è in realtà il block dome o comunque una derivazione del block dome e in questo post che si chiama virtual dome backing block che è del primo maggio in realtà però mi era sfuggito erano sfuggito un po' tutti in realtà ed è diventato molto popolare adesso in questi giorni e questo post è super interessante ovviamente non ve lo posso riassumere adesso ma vi va a spiegare come funziona il virtual dome e perché l'approccio del block dome l'approccio di Million è molto più veloce rispetto all'approccio virtual dome se voi avete seguito i framework javascript negli ultimi anni sapete che c'è un po' di discussione attorno al virtual dome non c'è chi sostiene addirittura che sia totalmente totale overhead come il creatore di Svelte Rich Harris che in questo ormai famosissimo post virtual dome is pure overhead appunto ha spiegato come mai secondo lui le performance di React degradano perché il virtual dome fa molte computazioni non necessarie e infatti Svelte che è il framework creato da Rich Harris non fa uso di virtual dome ma fa uso di comparazioni a compile time che poi creano del javascript del puro javascript che poi va a fare le operazioni atomiche sui componenti sul markup e quindi appunto nel block post si va a spiegare come funziona il virtual dome che sostanzialmente è una copia del dome che viene fatta da React per fare manipolazioni in modo più veloce rispetto a manipolare direttamente il dome quindi le manipolazioni i controlli su che cosa è cambiato vengono fatti sul virtual dome che sono operazioni più veloci e poi queste vengono riportate sul dome e sono queste le operazioni che sono costose infatti vedete da queste animazioni che quando qualcosa è cambiato vedete che viene fatta una comparazione nodo per nodo quando qualcosa cambia viene segnato cosa è cambiato e poi nella fase di riconciliazione viene detta tutte queste cambiamenti vengono riportati sul dome e questa fase è piuttosto lunga quindi che cosa fa il block virtual dome che non è un concetto creato da million ma viene appunto ripreso sostanzialmente si basa sui dati cioè non va a controllare i nodi del dome per vedere cosa è cambiato perché questa è una delle operazioni più dispendiose cioè il virtual dome deve controllare nodo per nodo se è cambiato qualcosa rispetto allo stato precedente mentre invece block dome va a segnarsi che i nodi possono cambiare possono essere che i nodi sono dinamici soltanto dove ci sono dei dati dinamici e quindi vedete come esempio in questo caso dove ci sono due contatori nel markup ci sono soltanto due nodi che possono cambiare perché hanno dati dinamici e quindi non ha senso prendersi la briga di controllare tutti i nodi che non hanno cambiamenti ma ha senso controllare soltanto i nodi che hanno dei placeholder appunto quelli che potrebbero cambiare quindi abbiamo in un intero albero in questo caso c'erano soltanto due cambiamenti benissimo avremo soltanto due nodi con cambiamenti e due nodi che verranno aggiornati quindi questa fase di cambiamento e riconciliazione è molto più veloce perché riduce soltanto ai dati dinamici e non a tutto l'albero questa tecnica è efficiente è efficace sì a quanto pare in media perché se si guardano i benchmark million è più veloce di preact ed è molto più veloce di react e quindi dov'è che million può davvero fare la differenza può fare la differenza dove ci sono in applicazione dove ci sono tanti componenti tanti nodi ma pochi dati dinamici quindi in single page application dove soltanto pochi pezzi della pagina effettivamente possono cambiare possono avere necessità di essere rirenderizzati ecco lì million può fare davvero la differenza e come si fa a usare million? cioè million è un framework di suo è un framework che posso usare in contraposizione a react cioè devo scegliere tra million e react beh no a quanto pare million si può usare dentro react e si può addirittura usare soltanto in alcuni componenti basta andare a wrappare il componente react con la con la funzione di million block e questo già rende quel componente renderizzato dal block DOM di million e questo naturalmente va a togliere dal virtual DOM il contenuto di quel componente e va a farlo computare da million e già questo è un vantaggio che possiamo sfruttare per velocizzare alcuni pezzi dell'app react e poi come funziona in particolare block è spiegato in un altro blog post che vi consiglio di leggere che è behind the block che è anche questo molto tecnico spiega come fa million a togliere un pezzo del DOM dal controllo di react fare le sue cose e fare le sue computazioni e poi ridarlo a react quando si tratta di soltanto rirenderizzarlo ed è molto interessante naturalmente non ne parliamo adesso perché è impossibile coprirlo in un podcast questo tecnicismo però vi consiglio di andare a darci un'occhiata perché potrebbe essere molto interessante ipotizzare di includere questa tecnologia questa tecnica in alcune delle vostre applicazioni react e direi che qua la chiudiamo perché se no andiamo veramente veramente troppo lunghi sarà sicuramente un podcast lungo e probabilmente dovrò fare qualche taglio perché non mi piace poi sia troppo tedioso però spero comunque vi sia piaciuto volevo fare un po' questo update a reddit e spararvi questa chicca su million che vi consiglio assolutamente di seguire io cercherò di stare aggiornato e poi se ci saranno cose nuove e frizzanti ve le riproporrò quindi grazie ancora per avermi dedicato il tempo anche oggi noi ci risentiamo probabilmente nei prossimi giorni sicuramente non domani ma nei prossimi giorni forse sì quindi buona settimana buon tutto quanto vi ricordo anche che ci sarò al WMF di questo weekend a Rimini in Fiera e va bene ho finito basta ciao 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 Grazie a tutti